Mamma mia che freddo! Sono giorni della merla, non c'è scienza o previsione che regga. 29, 30 e 31 gennaio sono i giorni più freddi dell'anno, tanto che una volta la merla, uccello che aveva candide piume bianche, intirizzita e anche tanto preoccupata per i suoi figliotti, non pote trovare altro rifugio se non su di un camino. Ci stette per tre giorni, perché il gelo le impediva di volare. Poi finalmente arrivò febbraio e un pallido sole riuscì a dare un po' di tepore e di speranza. Merla e figlioletti si stiracchiarono nel loro insolito nido e ce la fecero a spiegare le ali e spiccare il volo. I tre giorni sul camino però gli avevano cambiato il colore delle piume, tutte nere per la fuligine ed ormai non c'era più nulla da fare. Da quel dì, quando si spiudevano le uova, tutti i merli nacquero neri. Grazie!